Quando vuoi da ora? E su queste note cantate da Petra Magoni, del suonatore Jones, si conclude questa serata incantevole, nella ricorrenza della teologia di Spoon River e del meraviglioso disco di De André, non al denaro, non al lavoro, non al cielo. Io saluto nove da Firenze, io vi saluto da questa vita e dalla vostra. Vi saluto!